ciao io sono benedetta e questo è sentieri di libri un podcast che traccia percorsi di lettura nella geografia sconfinata della letteratura in questa puntata parliamo di due icone due donne senza tempo che ispirano nuove storie da millenni parlo di circe la maga che trasformava gli uomini in porci e di penelope la moglie fedele che tesseva la tela di giorno per disfarla di notte eppure al di là di queste poche connotazioni cosa sappiamo veramente di circe e penelope nell'odissea non le sentiamo parlare quasi per niente e tutto quello che sappiamo di loro ce lo racconta odisseo l'uomo che ha fatto degli inganni i suoi più grandi trionfi quale sarebbe la loro versione della storia se fossero proprio circe e penelope a raccontarcela margaret atwood e madeline miller hanno deciso di dare loro voce e di reinterpretare la loro storia il troppo della reinterpretazione dei miti antichi esiste da sempre in letteratura infatti i miti non sono mai stati qualcosa di statico e immutabile la casa editrice inglese canongate apre la sua myth series una colana che raccoglie reinterpretazioni di miti da parte di alcuni grandi autori e autrici occidentali con a short history of myth di karen armstrong armstrong spiega appunto che i miti accompagnano l'uomo da sempre e sono nati per cercare risposte alle grandi domande dell'esistenza e per aiutare l'uomo ad affrontare la paura della morte e dell'ignoto i miti mettono il genere umano all'interno di un contesto più vasto portano alla luce gli schemi ricorrenti e permettono di riaffermare l'idea che nonostante il caos e la disperazione dell'esperienza umana la vita abbia ancora un senso e un valore nell'antichità i miti erano una forma di psicologia antelitteram una guida per affrontare le prove più critiche dell'esistenza e accettare l'inaccettabile oggi in particolare ci sono moltissime autrici che riprendono i miti antichi e li reinterpretano dal punto di vista delle donne le voci mancanti dell'epica classica i testi che ho scelto per questa puntata sono tre due testi di margaret atwood tre penelopead e circe mad poems e circe di madeline miller sia miller che atwood reclamano la necessità di raccontare la storia di queste due donne dal loro punto di vista specialmente perché le loro storie sono state sempre veicolate dalla voce dei uomini odisseo in particolare un uomo che non andava certamente preso in parola madeline miller è una classicista e per ora all'attivo due libri entrambi di grandissimo successo e acclamati dalla critica il primo è la canzone di achille uscito nel 2011 e il secondo è appunto circe uscito nel 2018 e edito in italia da sonzogno nella traduzione di marinella magri margaret atwood non ha bisogno di presentazioni ha all'attivo più di 30 libri tra fiction non fiction raccolte di poesie e libri per bambini all'interno della raccolta di poesie you are happy uscita nel 1974 atwood dedica un poema in 24 poesie a circe intitolato circe mad poems di cui non credo esista una traduzione in italiano nel 2005 poi atwood pubblica the penelopead per la canon gate meets di cui ho parlato prima il libro in italiano si intitola il canto di penelope ed è pubblicato da ponte alle grazie e tradotto da margherita crepax ho scelto di parlare di queste tre opere perché in qualche modo sono interconnesse sia per tematiche che per personaggi miller esplora il personaggio di circe ma ci dà anche una visione inedita di penelope e ritroviamo sia circe che penelope nei due testi di atwood e in tutti e tre i testi ovviamente incontriamo odisseo tutte e tre le opere sono ambientate nel mondo mitico anche se nel canto di penelope ci sono delle divertenti incursioni nel mondo contemporaneo miller è a contatto con i classici fin da piccola infatti sua mamma le leggeva pezzi dell'iliade e dell'odissea prima di andare a dormire in molte sue interviste racconta di come a 13 anni leggendo l'odissea fosse molto eccitata nell'incontrare finalmente la celebre maga circe e della delusione poi nello scoprire quante poche battute e di poco rilievo in realtà le fossero riservate nell'odissea è così che molti anni dopo miller decide di riscrivere interamente la storia della maga facendo di lei un personaggio completo con una sua storia che è indipendente rispetto a quella di odisseo a cui vengono dedicati solo due capitoli così come circe è presente in solo due capitoli dell'odissea circe ci racconta la sua storia a partire dalla sua infanzia passata tra ninfe e titani parla della scoperta dei propri poteri quasi per sbaglio poi la seguiamo nell'esilio sull'isola di aiaia ed è divertente incontrare vari dèi e personaggi del mito come ermes dedalo medea e vederli incrociare il proprio destino con quello di circe il canto di penelope invece è ambientato nell'aldilà e tutti i personaggi coinvolti sono ormai morti da millenni penelope quindi si sente finalmente libera di parlare e dire la propria sulla sua vita anche il canto di penelope nasce da una rivincita che atwood vuole prendere verso odisseo infatti l'autrice non ha mai digerito il fatto che nell'odissea le dodici ancelle venissero uccise senza un reale motivo dopo l'uccisione dei proci per questo decide di farle finalmente parlare e nel canto di penelope si alternano la voce di penelope e il coro interpretato dalle ancelle che come nelle tragedie classiche fa da contrapunto e da commento alla narrazione di penelope le ancelle vengono uccise perché hanno avuto dei rapporti sessuali con i pretendenti ospiti alla corte di itaca senza il permesso del loro padrone odisseo non dimentichiamo infatti che le ancelle erano schiave di proprietà di odisseo e che lo stupro delle schiave da parte degli ospiti era una prassi comune ma richiedeva il benestare del padrone di casa il coro delle ancelle serve a sottolineare un elemento che ritorna spesso in atwood ossia quello dell'inattendibilità del narratore possiamo veramente credere alle giustificazioni di penelope per come sono andati i fatti oppure no le ancelle che nel mondo dei vivi non avevano diritto di parola e nemmeno alcun diritto sul proprio corpo nell'aldilà possono finalmente dire le cose come stanno e mettere in discussione la presunta innocenza di penelope se nel mondo dei vivi penelope non faceva altro che dormire tessere la tela e piangere nel mondo dei morti penelope si prende le sue rivincite e finalmente dice la sua sul marito sui proci e in una divertente scena anche sulla cugina elena che chiama poison on legs ossia veleno che cammina fino all'ultimo tuttavia non siamo sicuri se poterle credere o no se credere che abbia veramente aspettato castamente odissio perché come sottolinea anche miller in circe penelope condivide con il marito l'astuzia e l'arte dell'inganno tramato in silenzio in tutte e tre le storie è fondamentale il tema della colpa e dell'assunzione di responsabilità penelope è responsabile di aver lasciato uccidere le ancelle facendo finta di andare a dormire per dissociarsi da quanto stava accadendo infatti nella versione di atwood è stata proprio penelope a indurre le proprie ancelle ad avere rapporti sessuali con i pretendenti facendo di loro le proprie spie tra i proci in circe mad poems ritorna esplicito il tema della responsabilità e della colpa circe ripete più volte it was not my fault non è stata colpa mia riferendosi alla trasformazione degli uomini in bestie o al contenuto dei propri messaggi profetici e alle loro conseguenze l'esperienza raccontata nei mad poems è fortemente centrata all'incontro con odisseo si parla dell'ineluttabilità di una storia già scritta dal mito in cui il rapporto tra circe e odisseo è sbilanciato e circe deve in qualche modo subire il suo arrivo la seduzione e poi l'abbandono tuttavia nell'ultima poesia del ciclo si evoca la possibilità di emanciparsi dal mito stesso anche fosse solo a livello dell'immaginazione creando un'altra isola in cui la storia è andata diversamente madeline miller invece fa di circe un personaggio autonomo e a tutto tondo nell'arco della storia circe intraprende un percorso di crescita e di assunzione delle proprie responsabilità impara a riconoscere il proprio potere e se all'inizio può ancora raccontarsi che non è stata colpa sua che ha usato il suo potere per sbaglio lungo il corso della storia circe passa dall'essere sopraffatta dal senso di colpa all'assumersi pienamente la responsabilità del proprio potere e delle conseguenze delle proprie azioni miller esplora a fondo il tema del potere infatti da una parte c'è il potere che ci viene dato in quanto frutto di un privilegio come il potere sconfinato degli dèi che viene usato per puro divertimento sulla vita degli insignificanti mortali dall'altra parte invece c'è il potere personale che va nutrito e protetto con dedizione quel tipo di potere che reclamiamo ogni giorno assumendoci la responsabilità di vivere secondo chi siamo veramente e non secondo quello che qualcuno anche fosse la dea atena vorrebbe fare di noi quindi ricapitolando se leggete in inglese e amate esplorare il mondo della poesia provate ad approcciarvi a circe mad poems per gli amanti della sagacia e dell'umorismo mai banale di atwood il canto di penelope sarà un piacevole viaggio nell'aldilà se invece avete bisogno di una storia intelligente emozionante e anche bescritta che vi terrà incollati alle pagine circe non vi deluderà sicuramente io l'ho già letto due volte lo considero uno dei romanzi più soddisfacenti letti negli ultimi anni grazie per aver ascoltato fin qui se vi è piaciuto questo episodio condividetelo e iscrivetevi al podcast per non perdere le prossime puntate se mi ascoltate da apple podcast per favore lasciate una recensione buona lettura e alla prossima iscrivetevi al canale